Essere competitivi a livello globale significa oggi più che mai aprirsi ai mercati internazionali. Una sfida impegnativa che coinvolge territori, imprese e istituzioni. La Farnesina è in prima linea nel sostenere le aziende italiane nel mondo e promuovere il Made in Italy, assieme ai partner della cabina di regia per l'Italia internazionale. La Diplomazia Economica Italiana svolge un'importante attività di orientamento per gli imprenditori. Fornisce servizi informativi e strumenti gratuiti per aprirsi ai mercati esteri. Garantisce il supporto di una rete diffusa in tutto il mondo. Le Country Presentation e i Business Forum, organizzati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono l'occasione per scoprire nuove opportunità di business nel mondo. La piattaforma Info Mercati Esteri è una fonte di notizie su paesi e settori costantemente aggiornata, mentre il sistema Xtender seleziona su richiesta degli utenti informazioni mirate su gare internazionali e progetti dell'Unione Europea, news scientifiche e anticipazioni su grandi lavori. Day, ultime news dal mondo e la newsletter online sono l'osservatorio sui mercati esteri, con notizie economiche ed approfondimenti segnalati dalla rete delle ambasciate e consolati italiani nel mondo. L'informazione ha portata di click con i webinar, seminari interattivi via web. La Farnesina collabora inoltre all'organizzazione di missioni di sistema, sostiene le imprese nei rapporti con le autorità straniere, risolve criticità, presta assistenza operativa e coordina l'attività del sistema paese all'estero. Sfide importanti da cogliere insieme alle imprese, con una visione internazionale e con l'impegno di valorizzare tradizione ed innovazione dell'eccellenza italiana. Open Day, open your mind. Per saperne di più, visita la pagina della Diplomazia Economica sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e segui gli aggiornamenti sui social network.